Presso il Teatro Comunale di Casoli è stato presentato il libro Algeri Marino, l'attualità di un ingegnere, scritto dai docenti Rocco Iezzi e Amalia Di Risio. Il libro fa parte della collana e quaderni Casolani, diretta da Dogenaro Marinucci, e completa un percorso di dieci anni di seminari e studi portati avanti dall'Istituto Superiore, che porta il nome del grande scienziato. Ospiti illustri del mondo dell'università, della scuola, della ricerca e dell'industria hanno parlato della genialità di Algeri Marino nato a Casoli nel 1894, ingegnere e collaboratore di Guglielmo Marconi, pioniere dell'uso della radio, ideatore degli impianti ricetrasmittenti dei dirigibili Norge e Italia per le famose trasvolate polari. A lui si deve il progetto dell'intera rete nazionale dei ponti radio, lo ha ricordato Rocco Iezzi. Algeri Marino è stato definito il padre dell'elettronica e delle telecomunicazioni in Italia, ma questa definizione abbiamo visto che in questi anni di studio è un po' stretta, perché l'opera a cui si è dedicata Algeri Marino va ben oltre queste due discipline. Il suo concetto era quello di unificare tutte le discipline attinenti all'ingegneria in un'ottica di comunicazione. Fu generale del genio aeronautico e il capitano Alessandro Cardin, parlando dei cento anni dell'aeronautica militare, ha citato il contributo di Algeri Marino per lo sviluppo del radar aereo. La figura di Algeri Marino, che in questa giornata viene celebrata in modo così importante nella sua città natale di Casoli, ricorda in particolar modo quello che è stata l'evoluzione dell'aeronautica, sia dai tempi della sua Costituzione. Quest'anno, il 28 marzo prossimo, ormai imminente, si celebra una data così importante quale è quella del centenario. Il motto, lo slogan, appunto, in volo verso il futuro vuole sintetizzare proprio questa evoluzione dei tempi che dal passato, dall'inizio dei voli primordiali, in cui l'uomo sperimentava la tecnologia del volo, adesso guarda verso il futuro, in particolare rivolgendo la sua attenzione verso lo spazio. Alla base del pensiero di Algeri Marino, la comunicazione tra le diverse discipline, intuizione di grande attualità, che caratterizza la mission della scuola, a lui intitolata, la dirigente Costanza Cavaliere. Un'intitolazione ritrovata per una figura importante del territorio, perché si voleva in questo modo caratterizzare un istituto che tenesse attenzione al contesto di appartenenza, proprio a significare che i saperi hanno bisogno di radici e hanno bisogno anche di essere osservate nel cammino di sviluppo e quindi oggi la realizzazione di una biografia che hanno realizzato gli insegnanti ha proprio questo senso.